Buongiorno e ben ritrovati ragazze e ragazze. Oggi faremo una cosa che ha poco di survival, ma è più una gita in famiglia che tenivamo quest'anno. Oggi i video si svilupperebbe a parte, prima di tutto qua, e poi saremo a Lombiana, la capitale della Slovenia. Qui dove mi trovo ora faremo molti altri video. Piccolo spoiler, qua nel prossimo video vi mostrò cosa ho fatto. Io e mio padre li saluto a Lombiana. Ed ora partiamo alla volta di Lombiana. Bene, allora si parte, speriamo che non ci sia traffico e andiamo. Riconoscete quel monte lassù? E' il nano. Purtroppo oggi la cima ha ricoperto da l'alentura. Siamo arrivati finalmente a Lombiana. Siamo arrivati finalmente a Lombiana. Siamo arrivati finalmente a Lombiana. Questo qua è un centro commerciale gigantesco. Ci vediamo più tardi. Allora, ci siamo andati più seduti. Siamo in questo grandissimo city park a Lombiana, dove ci sono dei negozi veramente vasti. Adesso prenderemo da Primark, prenderemo qualcosa e poi ci sposteremo verso la capitale per il piano. Purtroppo per il tempo, che è nuvoloso, però ci vediamo per rischiare. Sempre per rimanere in tema vi mostro tutte le cose che hanno, come varie tematiche, per le istruzioni. Hanno il penino al cioccolato, banale al cioccolato, un po' di cioccolato. Un po' di cose col cioccolato in bocca, però. eccoci al centro di Lombiana, una bellissima città. Anche se la giornata è nuvolosa, questa città mantiene il suo fascino. questo è il plastico di tutta la città. Qua c'è il fiume e poi ci sono tre pochi campagli. Guardate là qui il castello. Questo è il centro storico. questo è il pescello. Questo è il nostro spettatore. Trovano. Guardate. 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 Guardatevi. Oddio. di Scateletta, capitale d'Europa Verde. È il momento di vendere qualche suonire. Il piano. Si sta facendo buio. Mi presenti un amico? Questo è il fiumetto attraverso Lumbiana, da cui prende il nome. Adesso è l'ora proprio di andare via. Infine abbiamo beccato anche la pioggia, ma pazienza. Se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like, iscrivetevi al canale per non perdervi nessun altro video e in descrizione troverete qualche altra informazione della giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.